Sì, sono stata chiamata in causa, in senso positivo, propositivo, però vedo che almeno in questa proposta che stiamo discutendo si parla di lavori per manutenzione di strade nel corso dell'annualità 2012. Quindi parliamo di, non so il municipio 13 se fosse, se avesse un governo di centrodestra e centrosinistra perché mi ricordo che erano misti a quel tempo, comunque c'era Alemanno al governo di Roma e sarebbe stato interessante sapere all'epoca all'assessore con Alemanno cosa ne pensava di tutti questi debiti e così fuori bilancio e di queste somme urgenze. Magari se ci fosse in aula potrebbe anche dare lui un apporto. Sì, in questo momento non c'è, parlavo chiaramente dell'attuale consigliere Ghera che è uscito dall'aula, non lo vedo. Poteva dare magari un chiarimento a questi fatti e aiutarci a comprendere come mai in quegli anni e anche purtroppo a noi subito nei primi anni del governo marino le somme urgenze sono state purtroppo una piaga, soprattutto per quanto riguarda le strade del governo di Roma. Ricordo pure, e non smetterò mai di dirlo perché per me è una cosa difficile pensare che alcuni ai noi persone dipendenti degli uffici tecnici non solo centrali ma anche municipali per quanto riguarda i lavori pubblici sono stati anche purtroppo oggetto di denunce e anche di arresti. Questo lo dico perché lo abbiamo letto chiaramente sui giornali rimbalzato fino al dicembre 2015 le notizie su arresti anche presso i municipi e quindi il consigliere Cozzoli, caro Presidente le risposte già le può trovare in quegli iscritti. Oggi non possiamo fare altro che votare la legittimità di questi debiti. Grazie.